Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, tanto per cambiare, ben ritrovati qui nel solito, usuale e a voi ben conosciuto disordine della mia libreria. Allora, 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 io tante volte nei miei video vi ho parlato di generali, di condottieri, di capi militari, di comandanti, ho parlato delle abilità militari di Zhukov, ho parlato di disgraziati come, di disgraziate, disgrazie come Badoglio e Graziani, ho parlato di Messe, ho parlato di Eisenhower, di Montgomery, insomma, ho parlato di alcuni dei grandi e ben noti comandanti militari della Seconda Guerra Mondiale, ma, 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 c'è anche da dire una cosa, non tutti i generali della Seconda Guerra Mondiale combatterono sul campo di battaglia e questa volta vi voglio parlare di una curiosità, di una piccola curiosità. C'erano anche generali gradi onorari, ok? Personaggi, personaggi che con la loro opera, con le loro azioni, con quello che hanno fatto durante la guerra, pur non essendo militari, sono stati insigniti di gradi militari onorari, ok? E volete sapere quale fu, chi è stata, chi è molto probabilmente il più bel generale di brigata, anche se, ahimè, ripeto, soltanto onorario, un grado onorario, ripeto, il più bel generale di brigata di tutta la storia delle umane guerre, di tutti gli eserciti, di tutte le armate e di tutti i tempi? Beh, il più bel generale di brigata di tutti i tempi. Eccola qua, Sherry Britton, la dea del burlesque, l'inventrice del burlesque, una delle più grandi, delle più memorabili, delle più belle performer di burlesque della storia. E indubbiamente, siamo sinceri, il più bel brigadier generale mai visto nella storia di tutte le forze armate del mondo da quando praticamente abbiamo smesso di cacciare marmotte nudi e vivere nelle caserme, nelle caverne, scusate. Dicevo, Sherry Britton, questa bella ragazza, questa bellissima ragazza, questa splendida donna, una delle donne più belle della storia, secondo me. L'inventrice, se vogliamo, una delle dee dell'epoca d'oro del burlesque. Una donna bellissima, una donna straordinaria, una donna straordinaria per bellezza, ma straordinaria anche per carattere, per personalità, per indipendenza. Una donna che incarnava pienamente l'idea di quello che doveva essere il burlesque, ovvero sia un'arte, perché il burlesque è tutto sommato un'arte, lo ammetto, a me il burlesque piace. È bello, cioè siamo sinceri, il burlesque piace. Dicevo, il burlesque è un'arte in cui la donna si deve spogliare con grazia, con erotismo, senza volgarità e senza eccessi. E Sherry Britton, come dire, interpretò pienamente il suo ruolo, il ruolo di dea del burlesque. Era una donna libera, una donna fiera, una donna indipendente, una donna con le palle, diciamoci la verità. Si spogliava, verissimo. Era desiderata e bramata da milioni di americani che la consideravano universalmente una delle più belle donne della sua epoca ed è tuttora. Cioè, insomma, ragazzi, diciamoci la verità. Questa donna è fantasticamente bella, siamo sinceri. Dicevo, Sherry Britton, nata nel 1918, morta novantenne nel 2008 e fu, come dire, incarnò alla perfezione gli stilemi del burlesque, della donna che fa burlesque, estremamente femminile, estremamente aggraziata, mai volgare e splendidamente eroticamente sensuale. Che vi devo dire? Fece durante la guerra, si adoperò sia come performer di burlesque per la 2SO per le truppe, sia al fronte, sia in giro per il mondo, sia in America, per, diciamo, sollevare il morale delle truppe. Insomma, oggettivamente, siamo sinceri, come? Ho detto, chi più di lei per tirar su il morale dei soldati pronti a partire per il fronte. E lei con i suoi spettacoli, con la sua opera di pubblicità per la raccolta fondi, con la sua opera di testimonial per la raccolta di fondi per i war bonds, per i buoni di guerra del governo americano, il presidente Roosevelt nel 1945 la nominò brigadier generale onorario. E, insomma, possiamo anche capire che con un brigadier generale così gli americani non potevano fare altro che vincere, siamo sinceri. C'è da dire anche una cosa, Sherry Britton non era stupida, tutt'altro. Era una donna intelligente, una donna carismatica, una donna eccezionale. Continuò a fare burlesque fino ai 40 anni inoltrati, fin dopo i 40 anni. Poi, ahimè, decise di, insomma, come dire, l'età chiese conto anche a lei e si mise a fare la cantante di cabaret e raccolse anche in quel campo grandi successi. Fu una delle dive del cabaret americano, Las Vegas, Reno, i teatri di Broadway e off-Broadway. Fu una protagonista per molti anni come cantante, come attrice. Tenete presente conto di una cosa, lei non aveva neanche fatto il liceo, perché aveva praticamente cominciato sin da giovanissima a spogliarsi per portarsi a casa la pagnotta. Ma nel 1982, a 63 anni, sapete cosa fece questa donna a 63 anni? Ancora bellissima a 63 anni? Si laureò con l'ode in giurisprudenza e divenne avvocato. È per dire che razza di persona era, che razza di determinazione, che razza di testa era questa donna. Ottimo il contenitore, eccezionale il contenuto. Non c'è nient'altro da dire dire, direi. E se volete sapere cos'era veramente Sherry Britton, vi consiglio una cosa. Girate un secondo su YouTube, troverete il filmato del suo ottantesimo compleanno, nel 1998, in un teatro in cui lei fa vedere filmati d'epoca, di quando era una performer di Burlesque. Burlesque, canta, parla, parla al pubblico, è in inglese. Bisogna starci piuttosto attenti, bisogna avere una certa dimestichezza con l'inglese americano per capire bene quello che Sherry Britton dice. Ma con un pochino di attenzione scoprirete un personaggio che oltre ad essere stata una straordinaria bellezza in gioventù, fu anche una donna eccezionale nella maturità per classe, per simpatia, per intelligenza, per carisma, per essere se stessa. Insomma, signori, Sherry Britton, indubbiamente il più bel generale di brigata della storia di tutte le forze armate del mondo. Poco da dire, poco da fare. Quindi, cari signori, io vi ringrazio per l'attenzione e, come sempre, arrivederci al mio prossimo video. Buonasera.